segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te particolare c'è russia non sarebbero stati condannati a morte quindi la russia usa lo stato fantoccio diciamo del dones che per dare una punizione esemplare diciamo in russia non sarebbero stati condannati a morte però che la giustizia sommaria sia regola e normalità in russia io penso che quest'episodio un episodio oggi molto importante questa vicenda perché è un episodio che dimostra ancora una volta la natura esistenziale di questo conflitto cioè ieri o l'altro ieri putin ha detto non ci farete quello che avete fatto l'unione sovietica cioè che cosa quest'unione sovietica dopo il crollo dell'unione sovietica che cosa quest'unione sovietica che con il sogno di gorbachev voleva cominciare a introdurre elementi di glasnost vi ricordate di glasnost e di perestroika e che invece si è trasformata in una grande regime autocratico il liberale che chiude tappa la bocca a qualunque opposizione culturale noi al max abbiamo rapporti con tantissimi artisti ucraini e russi entrambi vittime di questa logica del di uno stato autoritario questa vicenda di oggi dimostra ancora una volta ciò che per me è l'assunto fondamentale che oltre al fatto che è ovvio chi è l'aggressore chi è l'aggredito ma che c'è un conflitto esistenziale l'ucraina vuole fare parte di un'europa libera democratica in cui i diritti di parola politici civili di espressione culturale non siano calpestati di questo abbiamo parlato anche ieri con la presidente ursa von der leiden ma questo credo che sia fondamentale perché no tutta la nostra anche complessità io ascoltato prima monia che rispetto a cui voglio bene ma guardate se c'è una colpa dell'occidente di questi ultimi anni è stato il torpore verso quella russia che anela alla democrazia alla libertà è un'opposizione civile culturale ribadisco culturale che è stata calcata lei scrive nel 2006 questo libro lo dico mentre cerchi la frase e lei scrive nel 2006 questo libro in cui descrive nel dettaglio la macchina feroce da guerra dell'apparato militare di putin lei dice questo stato soffoca ogni forma di libertà come ha sempre fatto nel corso della sua precedente ora abbastanza parla di putin non dello stato questo libro spiega come noi che russia ci viviamo non vogliamo più che ciò accada non vogliamo più essere schiavi anche se quanto più aggrada all'europa e all'america e questa è questa è la colpa dell'europa e posso dirti mirta questa colpa cioè di non aver fatto di non essere stati come dire pronti attenti consapevoli verso quell'opposizione civile informativa lo dicevate prima culturale oggi però deve dare un segnale e cioè deve dire all'ucraina prego entra che non è la nato è l'europa cioè è l'istituzione è l'unione europea l'istituzione della libertà e delle libertà civili allora è arrivato a trovare